Fallito assalto della banda del buco alla gioielleria Stroili Oro di Vianicola Fabrizia a Pescara grazie al pronto intervento dei carabinieri che nella notte fra il 3 e il 4 gennaio scorso nel quadro di servizi predisposti per il controllo del territorio hanno sventato un furto di almeno 30.000 euro in manette tre persone originarie di Roma. Tutto nasce da un controllo in particolare del personale in abiti civili che è predisposto al controllo e repressione di reati contro il patrimonio soprattutto e la dinamica come vi ho spiegato è molto semplice viene notato quest'uomo vestito di nero con lo zuccotto che con fare sospetto batte il marciapiede antistante la gioielleria e i militari si allertano chiaramente capiscono subito che c'è qualcosa che non va e che l'uomo sta fungendo da palo per qualche furto e decidono prima di osservarlo e poi chiamare rinforzi ed intervenire quindi viene bloccato il palo e si fa irruzione nel bar dove gli altri due malviventi stavano praticando un buco per rubare i gioielli all'interno dell'esercizio commerciale attivo. La tecnica richiama effettivamente ben note vicende cinematografiche la famosa banda del buco, loro in particolare sono stati ancora più accorti perché non sono entrati materialmente all'interno dell'esercizio ma hanno semplicemente infilato una mano proprio al fine di non far scattare l'allarme quindi hanno presumibilmente fatto dei sopralluoghi in precedenza per individuare il punto esatto dei gioielli che avevano maggior valore parliamo di 30.000 euro di gioielli circa e hanno infilato giusto la mano per sottrarre questi preziosi e sono stati presi proprio nel momento in cui avevano in mano tutti i gioielli.